E benvenuti ragazzi, sono Alessio Nero Azzurro e ben andato in questo nuovo video Brutta Italia ragazzi, mi dispiace dirlo ma è veramente una bruttissima Italia per me Per me, questo è un parere mio Bruttissima Italia per un semplice motivo Non possiamo ogni volta sottovalutare le partite Non mi interessa che la Nations League è un trofeo, porca puttana Perché adesso mi incazzo, perché adesso l'Italia sembra che sia tornata quella degli anni passati Che c'è appena Dai per favore abbiamo vinto l'Europeo, dimostriamo che siamo forti La Spagna l'abbiamo già battuta ed era anche più forte la Spagna degli Europei Dai ragazzi, cioè svegliamoci Ma perché perdono, perché non sono concentrati Cioè mi chiedono, ma insigne, ma che cazzo fai? Ma che cazzo di tiro sbagliato? Cioè con Napoli quelli li segna tutti Con Nazionale Malice Cioè quel tiro manco mia nonna lo sbagliava C'erano rigori in movimento, a parte che aveva tutto il tempo Poteva stopparla, tirarla nel palo distante Cioè ha tirato un po' di... ma peggio di così non poteva tirare Poi volta che abbiamo preso Io da interista lo dico, Boston ha fatto una cagata proprio assurda Gli è lasciato solo Poi è segnato al volo Bel gol per carità Però ragazzi non bisogna lasciare solo Fernand Torres È fortissimo Fernand Torres Infatti dopo che è successo L'intelligente di Buonucci Prende pure Rosso E poi prendiamo il 2-0 E già lì era finita la partita Fernand Torres sembra di testa Palleggio della Spagna L'Italia ogni volta non ricopriva la fascia sinistra Erano sempre soli In due volte hanno fatto due cross andati in porta Non è possibile, devono difenderli Poi l'Italia ha avuto qualche occasioncina anche con Chiesa Il palo di Bernardeschi Ma Bernardeschi a parte un tiro non ha fatto niente Bernardeschi ragazzi è un giocatore che mi fa veramente cagare a me Io non sopporto Bernardeschi come giocatore Non so neanche perché giochi ancora in Serie A Cioè per me è un giocatore da Serie B, da Serie C Bernardeschi non mi piace proprio come un giocatore Come un giocatore strano Neanche da Serie B per me è Bernardeschi Manco da Serie C, manco da Lega Pro Cioè bah, vabbè Dunque ecco Male ragazzi Poi abbiamo fatto gol con Pellegrini grazie a Chiesa Chiesa meno male ragazzi Chiesa forse è uno dei pochi che veramente in questa Italia possiamo salvare Perché veramente Chiesa è fortissimo Lo dico da interista, è fortissimo Lo vuole avere l'Inter Ma il resto ragazzi male Male veramente Pellegrini, va il bravo Pellegrini ma ha fatto un gol grazie a Chiesa E non è che Pellegrini adesso ha fatto l'Euro goal Ci ha fatto un gol a porta vuota Dunque ragazzi Poi ieri ho visto anche Belgio Francia Ha vinto la Francia Quindi finale Francia-Spagna Poi Italia-Belgio Terzo quarto voto Sì ma ragazzi Non si può giocare in queste condizioni qua Cioè prendiamo Rosso Poi la difesa torna Metto una Roma che fa le papere Perché lo fischia Cazzo ragazzi Lo vanno a fischiare Poi ha detto Donna Roma Ma non se lo merita Perché i tifosi del Milan l'odiano Ma che ve ne frega Perché io Lukaku lo fischio Non fai un cavolo di Lukaku È andato via Donna Roma Vabbè che se ne frega Perché adesso Italia-Belgio Si mettono a fischiare Lukaku Ma va là Ma va là Così ne frega gli interisti ormai Abbiamo Dzeko Sì con tutto rispetto Non li paragono Perché per me Lukaku Resta sempre il più forte Ovviamente Però ragazzi ecco Comunque l'Italia che mi ha deluso Ragazzi serve più testa L'Italia deve essere concentrata Perché non si può Ma vuoi sbagliare quei gol lì ragazzi Non si può in queste partite qua Perché dopo vedi la Spagna Gol sbagliato volo subito Bisogna stare più concentrati E attenti Comunque Ci vediamo col prossimo video ragazzi Che dovrebbe essere della Adesso non farò tanti video Perché adesso C'è una settimana di stop Per le partite Riprendo la settimana prossima Le partite Quindi Ci sarà un po' di stop Però ragazzi Io comunque i video Ve li ho fatti Se poi magari arriva qualche video Di notizia importante Qualcosa che Di interessante da cui parlare Vi aggiornerò Non vi preoccupate Comunque per adesso Non credo Che faccio video Su qualcos'altro Perché Beh se è una settimana Un po' Buia Perché questa settimana Non ho il fantacalcio Aspetto quella dopo Aspetto quella dopo Vabbè ragazzi Comunque spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi in tanti Perché Sono molto contento Siamo già a 79 Sono soddisfatto ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi in tanti Perché ci tengo E attivate la campanellina Ragazzi Non dimenticatelo D'Alessio D'Alessio Sì Buona notte Quello nome è vecchio Mi ricordo D'Alessio Nera Azzurri Tutto Ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti